Green Pass e mascherine per tutto il mese di aprile ci dovremo abituare alle nuove regole stabilite dal Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022. Saranno così ridefiniti i luoghi di uso dove bisognerà indossare la mascherina e si decidono i settori e le attività in cui sarà necessario esibire il certificato verde base o rinforzato. Tappe stabilite del nuovo decreto per superare le misure di contrasto alla pandemia vista la fine dello stato d'emergenza, che gradualmente ci condurrà allo stop a Green Pass e mascherine entro la fine dell'anno. Intanto nella prima fase che durerà fino al 30 aprile saranno ancora una volta i titolari e i gestori delle attività a dover verificare il Green Pass base o rinforzato e a far indossare la mascherina ai propri clienti. Mascherina FFP2 e Green Pass base saranno obbligatori per chi viaggia in aereo, in nave e anche su traghetti per il trasporto interregionale. Fanno eccezione quelli impiegati per i collegamenti maritmi nello stretto di Messina e non solo, anche quelli da e per l'arcipelago delle isole Tremiti per cui è necessario l'uso della sola mascherina FFP2. Mascherina e Green Pass base necessari per quelli che decidono di viaggiare in treno, quindi su treni interregionali, intercity, intercity notte e alta velocità. Stesse regole per gli autobus. Invece si torna agli spettacoli all'aperto potendo indossare la mascherina FFP2 ed esibire il Green Pass base, quindi sia a sale teatrali, da concerto cinematografico e locali di intrattenimento e musica dal vivo, ma anche a eventi di competizione sportiva purché svolte all'aperto. Se queste stesse attività sono svolte al chiuso invece richiederanno, oltre alla mascherina FFP2, anche il Green Pass rafforzato. Forzato.